Benvenuti a tutti in questo Q&A. Io sarò abbronzato con questa luce puntata addosso, però vi ho promesso video di qualità e quindi eccoli qua. C'è anche le pentine che fate da ornamento per il video. Allora, questo Q&A lo volevo fare da tempo. Sotto ogni video ci sono tante domande a cui non rispondo. Questo perché nel corso di questi mesi vi sono salvato le più frequenti per poi fare questo video. Allora, rispondo ad alcuni ma come se rispondessi a tutti gli altri che hanno fatto la stessa domanda. Inizio con questo qui, con Vincent DRG. Ciao caro, una domanda. Quando ti assume un'azienda di trasporti al vettore? Gli viene assegnato un camion direttamente o prima bisogna fare alcuni corsi per far sì che l'azienda ti affida un'azione del genere? Chiedo perché mi sto prendendo le pari patente per immettermi in questa nuova avventura ed ero curioso a riguardo. Ora rispondo anche a tanti che non fanno questo messiere, quindi anche semplicemente per curiosità come ha vinse e per tanti potrebbe essere scontata la risposta e per altri no. Comunque no, non ti fanno dei corsi particolari, a meno che non trasporti roba particolare. Poi per quanto riguarda il mio caso, no. L'azienda ha quei mezzi e ti dà quei mezzi. Poi giustamente se ci sono mezzi nuovi o mezzi meno nuovi, appena entri ti danno quelli più datati. È normale che sia così, la gerarchia. IX Sicario, ok, un nome un po' particolare. Quanto tempo ci hai messo per prenderti le patenti? Allora, io le patenti ci ho messo la bellezza di un anno, perché oltre che il costo un po' esagerato, come ben sapete, ho fatto... appena ho fatto 21 anni ho fatto la C. Poi ho fatto il CQC che è durato la bellezza di 2-3 mesi, andando a scuola guida tutti i giorni per un mese e mezzo. Poi dopo le 140 ore obbligatorie di presenza ho fatto il primo esame. Io stavo ancora con la vecchia legge che devi fare due quiz, due esami per prendere il CQC. Ho aspettato un altro mese, un giorno, per fare il secondo. Dopodiché ho fatto l'AE e ho iniziato a lavorare. Quindi un annetto circa ci ho messo, un po' per le tempistiche, un po' per i costi esagerati che avevo nel farle. Poi c'è Giuseppe Martorana che mi chiede, poverone, ma proprio per fare quella curva con l'asse davanti del levato non è stato peggio, proprio perché con quell'asse alzato in curva ti stringe di più? Allora Giuseppe si riferisce a questo video. Ma questa curva era stretta, sì, ma avevo spazio per allargarmi. Quindi con l'asse alzato essendo leggero, il rimorchio taglia e a me quello mi serviva perché era molto stretta. Avevo spazio ma mi serviva che comunque le gomme non andavano sotto stress, cioè non giravano da ferme, altrimenti sarebbero rovinate quelle del primo asse. Invece così un pochino, diciamo, ha aiutato. Qui ho sbagliato io perché potevo evitare di fare questa curva andando dritto e mai trovare un altro posto dove girarmi, semplicemente. Andavo di corsa, andavo di fretta. Poi c'è Florin Stetco che mi chiede, ti piacerebbe fare i paesi scandinavi? Sì, 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 da morire. Ci sono alcune aziende che lo fanno, ma non qui in zona dove sto io. Poi comunque comporterebbe stare fuori due settimane, se non di più. Quindi uno bisogna trovare un po' di equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Già questo qua mi porta tanto tempo fuori, tutta la settimana. Può capitare anche in questo lavoro due settimane, ma non è una regola. È qualche caso eccezionale che può capitare. Luca Pulcini invece mi chiede, ma li tieni gli adesivi degli angoli morti? Sì, dentro al cassetto. Gli angoli morti, per chi non lo sapesse, in Francia sono obbligatori. Staccati alla cabina e a rimorchio. A rimorchio ce l'ho, alla cabina, essendo il trattore nuovo. Sempre con la scusa che è sporco, non sono ancora riuscito a metterlo. Mattei Zara mi chiede, mi puoi salutare? A che età puoi iniziare a guidare? Puoi iniziare a guidare anche a 18 anni, facendo il corso CQC con le ore obbligatorie raddoppiate. Altrimenti a 21 anni, come ho fatto io, facendo il corso CQC normale, quindi di 140 ore. Matteo De Bastiani mi chiede, bel video complimenti, una curiosità, come trovi i posti? Usi solo la cartina o usi anche il satellitare? Io ho fatto vedere che ho la cartina della Francia, ma quella è una cosa in più, un po' per sfizio, un po' per capire all'inizio dove li trovi e come orientarti, ma io li trovo solo con il satellitare, le vie e le aziende, perché in conto vedere l'autostrada da nord a sud, allora la cartina è utile. Ma quando vai a trovare le vie, le aziende, il satellitare è una comodità che nessuno adesso rinuncia. Faccio a me che ogni cliente è diverso, ogni viaggio all'andata e ritorno possono cambiare i clienti e le città. Il satellitare è un aiuto che ti agevola molto, molto, molto il lavoro. Tu ascolta così mi correggio, ok? Fammi un segno con la mano se sbaglio qualcosa. Alex Dax mi chiede, ciao Wolverone, ti chiedo con una curiosità, l'azienda passa le scarpe antinfortunistiche o può portare a piacimento scarpe da ginnastica o ci abbatte? Le scarpe antinfortunistiche io le ho comprate perché c'è bisogno, in ogni posto in cui si va a scaricare, appunto dei dispositivi di protezione individuale, i dpi, questo se fate le patenti o comunque corsi aziendali, vi viene detto. Massimo B mi chiede, se non a me non sembra normale fare tutte queste prese scadili con un autoarticolato, buon lavoro giovane. Allora Massimo si riesce a questo tipo di lavoro che sto facendo da qualche mese a questa parte, ovvero fare varie prese in Italia per fare varie consegne in Francia. Lo stesso si fanno varie prese in Francia per fare varie consegne in Italia. Sono tante, o meglio, possono sembrare tante, a volte magari lo sono, sei un po' stretto con i tempi, però è gestito abbastanza bene, non so come spiegartelo. Io non ho mai fatto la Francia, è vero che ho l'aiuto di mio padre che già l'ha fatto e quindi ho alcuno dietro che mi aiuta e mi fa evitare di perdere tempo, però devo pur dire che il lavoro è gestito bene e riesco ad incastrare bene questi carichi e questi scarichi. Raimondo Orsini mi chiede, la polizia è severa in questi casi oppure la giustificazione può essere presa in considerazione? Raimondo si riferì a un video in cui vi facevo vedere che avevo sforato le ore di guida e ho fatto una strisciata. Attenzione, ho sforato le ore di guida e non l'impegno, perché l'impegno la non ci passano sopra. Invece con le ore di guida, per x motivo, mi sembra che in quel video avevo trovato tutte le aree servizio piene o ero bloccato nel traffico, non mi ricordo. Comunque c'era una motivazione perché avevo sforzato le ore di guida e con questi camion di ultima generazione con sopra i tachigrafi 4.0, quindi anche essi di ultima generazione, si è controllato anche dal satellitare del camion, del tachigrafo. Quindi se tu diceva che ero in questo tratto perché c'era un incidente, perché ho avuto un problema con il tachigrafo, loro riescono a risalire alla posizione. Se tu giustifichi questa cosa con l'articolo 12 del regolamento europeo 561 del 2006, sempre se studiate queste cose le sapete, c'è questo articolo che vi permette di sforare le ore di guida per portare merce trasportata e mezzo in un posto sicuro, quindi avete questa cosa per sforare, non c'è un limite, certo non puoi sforare di mezz'ora perché in mezz'ora tu dove sei sei lo trovi un posto per fermarti, però quei 5-10 minuti magari, almeno a me non mi hanno mai rotto o non mi hanno mai creato problemi, ho fatto molti a riguardo. Luca Guizzo invece mi chiede che navigatore usi o Google Maps? se conosco la zona e so che non ho problemi di ponti o di rivedi per i camion, oppure se vado in un posto nuovo che non conosco bene, perché tante volte succede che andiamo a carriere o scaricare in zone dove i mezzi pesanti non hanno una strada comoda, però ci devi andare. Allora in quel caso uso il navigatore del camion, essendo l'ultima generazione, ha un navigatore credo sia il Garmin, se affida Garmin Scania se non sbaglio, e lì ti dici se ci sono i ponti bassi o strettoi o semplicemente rivedi di peso. Andrea Vassallo mi chiede, meglio lo Scania 520 V8 o il 540 6 cilindri? anche come consumo intendo. Allora Andrea, il V8 ovviamente consumava di più, ma facevo un lavoro non molto pesante. Lo stesso con il 540, quindi a livello di prestazioni, per quello che ho provato io in questo piccolo periodo, i camion si equivalgono, ma semplicemente perché non sto facendo viaggi pesanti, è capitato ogni tanto, il camion ancora diciamo è il ruotaggio, e non so come dirtelo, non ho avuto esperienze magari a pieno carico con il V8 o a pieno carico con il 6 cilindri, quindi in salita a fine vanno tutte e due. La maturata di consumi, il 2540 sta consumando molto meno rispetto al V8, ti posso parlare del lavoro che faccio io, il peso durante la settimana varia, però è sempre un peso che non tocca mai il limite, sto facendo un 3-4, 3-3, 3-4, considerando che la Francia è un percorso, è una nazione che ha delle strade tutte sali e scendi, e il motore è più sotto sforzo rispetto magari quando facevo il nazionale con il cuore. Giorgio Mior mi chiede, bravo ma come ti chiami? Giustamente in tanti mi avete richiesto questa cosa, io mi chiamo Christian Gorini, non è un segreto, Polverone è un nome che mi è stato dato dagli amici di mio padre, lui è Polverone, io sono Polverone Junia. Vincenzo Torleti invece mi chiede, ciao i bagni sono riscaldati? Lui si ferisce ai bagni che ho ripreso tante volte nelle aree di parcheggio in Francia, perché a differenza d'Italia, in Francia ci sono tante aree di parcheggio, tutte le aree di parcheggio e tutte le scelte di caselli con dei bagni. La maggior parte sono anche riscaldati, alcuni no, non tutti, però tanti sono riscaldati ed è una comodità che in Italia non ho mai avuto. Alessio Frosio invece mi chiede, io come lavoro desiderai fare l'autista? Lo consigli come lavoro? Allora, come lavoro lo consiglio mi, nel senso, bisogna vedere che carattere avete, se è un lavoro che vi si addice, questo perché è un lavoro che vi toglie tanto, tanta vita privata, ma non solo parlo della famiglia, ma anche delle passioni. Io sempre avevo la passione della moto e me la so venduta, sinceramente, perché non la usavo più. La passione del calcetto, la passione dello sport, dipende cosa vuoi fare. Il lavoro della tua trasportatore ha molte spacciettature, molte sfumature, ovvero puoi fare il locale, puoi fare il nazionale, il regionale, puoi fare il frigo, quindi il frigo, a differenza dell'industriale, ti porta a lavorare anche il sabato della domenica. L'industriale, invece, ti porta a lavorare tutta la settimana, ma il sabato della domenica sei a casa. Bisogna vedere le tue intenzioni, dove ti puoi buttare? Se con il frigo, se con la centina, se il nazionale o l'internazionale, se il locale o altro. Questo non lo so. Io ho provato un po' di tutto e devo dirti che lo consiglierei per tanti motivi, ma lo consiglierei per altri tanti. Giardo Santarelli, invece, mi chiede, sei pratico anche con l'autotreno? No. Quello dovete chiedere a Massimiliano. Cristiano, invece, mi chiede che camera usi e con cosa lo attacchi al camion? Allora, ho iniziato a fare i video con la GoPro. I primi video dell'anno scorso sono fatti con la GoPro Hero 7 White. Poi ho proseguito con l'iPhone 11 Pro e adesso ho preso questa delle camera con cui sto registrando, che è la Insta360 Go 2. È molto pratica, ha un adesivo fatto in silicone che attacchi e stacchi dove vuoi e quando vuoi, mentre su una superficie che lo permette. Ed è molto comodo perché faccio anche riprese all'esterno della cabina. Giorgio Giorgio invece mi chiede, ma anche altri mi hanno chiesto, quando vieni in Sicilia o comunque nel sud Italia? Con le vecchie aziende ci sono anche alcuni video dove ho fatto qualche viaggio a Catania, una a Palermo, spesso venivo in Calabria o poi ho fatto la Puglia. Adesso, lavorando in questa azienda, sto facendo solo la Francia. Ogni tanto può capitare qualcosa al nord Italia, ma ormai la faccio solo di passaggio l'Italia. Poi il mio lavoro si sviluppa in Francia. Passiamo con l'ultima domanda di Franco Frank Fontana che mi chiede cosa penso dei miei colleghi YouTube camionisti. Allora, è vero che stanno lasciando molti canali, i ragazzi come a me, neofiti sia nel fare video sia in questo lavoro, far vedere cosa passano loro durante la giornata sopra il camion. È molto interessante perché penso che anche grazie YouTube ognuno ha la sua libertà di parola ed esprimere quello che pensa di questo lavoro. Quindi il mio consiglio magari è di vedere tutti i canali e farvi un'idea, soprattutto per chi vuole avvicinarsi a questo lavoro. È una cosa che mai di prima non c'era e adesso potete sfruttare al vostro vantaggio. Quindi se avete intenzione di avvicinarvi a questo lavoro, non seguite solo una persona, non seguite solo me. C'è l'Alelo Statale che è molto con gamba. C'è Luca Mazzi che è un signore che può dire la sua perché ha esperienza. C'è Alessandro Marcantoni, un altro ragazzo come a noi. Quindi sono contento di questi colleghi sia YouTuber che camionisti. Comunque detto questo, ragazzi, spero che il video sia stato di vostro interesse se vi abbia tolto qualche curiosità in più che avevate sul mio conto o comunque sul mio lavoro. E ci vediamo al prossimo video domenica prossima. Ciao!